Fingiamoci a visitare la... Grazie. Grazie. Buonasera, perché aderiamo all'associazione italiana di turismo responsabile. E cioè? Praticamente seguiamo un po' i principi, intanto la trasparenza dei prezzi, della garanzia ai viaggiatori, il piccolo altro contatto di viaggio. Una porta di viaggio solidario al viaggio viene devoluta ad uno progetto di cooperazione, e dove è possibile utilizziamo sempre strutture ricettive, ristoranti, abeni che siano... correlati? Attenti, diciamo, ad alcuni parametri... Stemati, ecologici, risparmi energetici... Grazie mille. Grazie mille. Ci contava. ... ... ... ... ... ... ... E cosa viene la bombetta? Grazie Il grano è una località o cosa significa muscolo di grano? Il prodotto si chiama muscolo di grano Non è grano Se ne è preferire di grano o di lezzettino? Ah, ho capito Se la trovate, complimenti Buongiorno Posso fare sbagliare a voi? Vorrei, ma nei mesi come detto lui C'ho pochi momenti di vita Ah, ma io non ci credo Grazie comunque Grazie a tutti Questo è un entry level Ah, ma io non ci credo Ah, ma io non ci credo Grazie a tutti Grazie a tutti Ma questo parla in specie molto io sono una mafia, un bambino, un bambino che è posato di banche di governo, banche di governo e i nauri non ricordo di prendere abbastanza le visioni ambiente siete impugnati e non sticcati un po' di massa con un fortino per cambiare noi c'è anche quella del intestino, non ho sbaglio, di questi? come? ma voi io, invece lui, mi sono solo a sclusore singolo qua su che cifre adesso sono, su 1000 euro? e invece due strisori? 1650 capito? e c'era la differenza bello e fa delle cose bellissime in pari in germania fanno i cibi con grazie a Gesù non lo so, Gesù riescono a sintetizzare altri materiali anche in Italia un domani non lo so oio la tesina tipico grembiale azzurro lui che è il mio visio è il mio visio per il seminario non lo so cosa sono i profumi? quali sono le salvi eccetera? sono additivi dei condimenti o salvi eccetera? le salve sono le salve da cucina ah e questi invece come? per fare pisane che sono idrolanti in pratica è acqua distillata si, si per che cosa? e si fa quando si fanno gli oli essenziali si spila le erbe quindi viene fuori da una parte l'olio essenziale dall'altra è l'acqua della distillazione ti hai lavorato in chimica, vero o no? no, sono ingegnere ma io sono un amico del padrone ah capito, capito sale? ciugge la pancia ciugge la pancia ahah 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 quante like quante diciamo unently andato che è un'articolina non le faccio e l'articolina se ci Alison è un'articolina un'articolina che il cibo dell'autolab e ci sono altri che ci sono il giornale di sicurezza che per l'appoglio ci è inoltre 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.